Salve, salve, mi chiamo Maria Rosaria Vardi e sono molto felice di potervi esprimere il mio pensiero e di poter espandere con la mia umile voce ed anima, amore, speranza di luce per tutti noi. Ecco, io nel percorso della mia vita mi sono occupata di tutt'altro, sono un'artista partenopea e quindi la mia vita 360 gradi, arte, vita, famiglia, lavoro. Però oggi ho capito che c'è qualcosa di più importante da poter condividere con tutti quanti, con tutti noi, con tutti voi questa certezza, questa speranza che non siamo soli. Mi voglio riferire a coloro che ogni giorno si sentono soli, pensano che la vita sia finita e che non ci sia più un barlume di luce per ognuno di essi, momenti di depressione, delusioni, perdita di lavoro, che non sono malattia. Ecco, la mia voce vuole essere qui per tutti voi e dirvi che non siamo soli. Questa energia di luce, gli angeli, per me è una certezza, è una certezza che voglio espandere a tutti voi, parlare con gli angeli, perché loro sono energia, amore e sono ogni presente, ogni giorno, ogni attimo, ogni istante della nostra vita. Parlargli, dirgli di ogni nostro problema, come ad un amico, un fratello, ad una persona cara, sicuramente si manifesterà, potrai anche scrivergli una lettera e parlargli. lì, lì dove ti sentirai offeso, messo da parte. Sicuramente lui sarà una grande protezione per te. Ok, con questo ti voglio dire che ti lascio a te e tutti quanti voi con un grande abbraccio di luce e che gli angeli siano la nostra grande, come devo dire, speranza e fede. Namaste a tutti voi. Un bacio da Maria Rosaria Vardi. Grazie a tutti.